Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha approvato un provvedimento che cambia e stravolge il sostegno per i disabili gravissimi. Si tratta del nuovo patto di cura, una misura che è già stata oggetto di confronto all'interno del tavolo della disabilità. Vediamo. Un contributo di 20 mensilità da 1.200 euro ciascuna per assumere un assistente o un educatore e garantire una migliore assistenza dei disabili gravissimi residenti in Puglia. Tra le condizioni necessarie è quella che sia contratualizzato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale del lavoro, con la semplificazione del costo standard. Si tratta del nuovo patto di cura, approvato nei giorni scorsi dalla Regione pugliese, un provvedimento che va a cambiare radicalmente l'attuale sistema di sostegno al reddito delle fragilità più gravi. Questa misura è in linea con il Piano Nazionale per le autosufficienze, che prevede il superamento delle forme di sostegno basate sulle erogazioni economiche. Il fine è quello di offrire servizi, un supporto concreto e monitorabile alle persone con disabilità, anche attraverso la regolare assunzione di personale contratualizzato. Quest'anno sarà possibile optare tra la sottoscrizione del patto di cura e una integrazione al reddito da 700 euro mensili, che in ottemperanza alle indicazioni ministeriali sarà superata nel corso del prossimo triennio. Secondo l'assessorato all'Uelfar pugliese, con questa misura economica sarà incrementata l'occupazione, saranno potenziati i servizi sociosanitari e sarà ampliata la platea dei beneficiari. In presenza di un caregiver familiare sarà finanziato un contributo a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, questo per valorizzare il ruolo di cura del caregiver che dovrà impegnarsi sia nei confronti del disabile che nell'ambito territoriale e sociale.